Allora, l'iniziativa è interessante perché la formazione si fa in aula ma si fa anche guardandosi intorno e in particolare per gli studenti guardarsi intorno fra le aziende con la possibilità di cimentarsi in attività che richiedono lavoro di gruppo, richiedono qualcosa in più che proviene da altri contesti, quindi studenti di diverso indirizzo e quindi già da subito avere un assaggio di quello che sarà poi dopo il ciclo di studio.